La legge 54 del 2006 è stata una legge rivoluzionaria perché ha introdotto anche in Italia l'istituto dell'affidamento condiviso. Pensate che per tanti anni l'Italia non aveva l'affidamento condiviso nel proprio diritto di famiglia, c'era soltanto l'affidamento esclusivo e qualche volta a previo accordo dei coniugi si poteva ipotizzare l'affidamento congiunto. Diciamo che questa è una legge che ha elevato almeno sulla carta l'asticella culturale del nostro Paese perché abbiamo recepito i valori e i principi delle convenzioni internazionali di New York e di Stasburgo che hanno sancito il principio della bigenitorialità. I figli hanno diritto di mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori e con i parenti di entrambi i rami genitoriali fino al quarto grado e oltre proprio perché non possono perdere la loro identità, i loro affetti. I figli non sono un bottino di guerra, i figli non sono proprietà di nessuno. È un richiamo che faccio sempre ai miei clienti, è un richiamo che faccio in tutti i miei eventi formativi per gli avvocati, per gli assistenti sociali, e per tutte le figure che a vario titolo si occupano di diritto di famiglia. Purtroppo invece c'è ancora una mentalità tutta italiana di ritenere che i figli siano di proprietà, delle madri o dei padri non mi interessano, sono proprietà di nessuno, sono persona. Io ricordo che con il professore Alfredo Carlo Moro che è stato uno dei miei maestri di professione e anche di vita. Abbiamo studiato tante volte i suoi manuali, tutto ciò che emergeva dai suoi studi. Ebbene lui è stato il primo a sancire nel nostro paese il principio secondo cui i figli sono titolari di diritti soggettivi autonomi, non soltanto oggetto di tutela. E quindi quando una famiglia si spacca, quando si arriva alla separazione o al divorzio o quando le famiglie di fatto arrivano al capolinea, i figli devono essere affidati via condivisa salvo casi eccezionali. La legge 54 è stata molto chiara, molto precisa anche se va emendata, ma è una legge tradita. Perché è vero che oggi gli italiani non sono quelli degli anni 70 e degli anni 80, ma c'è ancora un grosso numero di separazioni e divorzi o comunque di procedure familiari minorili in cui i figli sono al centro di un conflitto dove ogni genitore si li tira a sé. Tutto questo non può essere più consentito e io credo che dobbiamo mettere mano a questa legge, ma mettere mano anche alla mentalità dei giudici e degli avvocati e dei servizi sociali e di tutte le altre figure. Perché non è più possibile pensare che uno dei due genitori debba essere defenestrato dalla vita dei figli. Ripeto, salvo che non siano successe cose di una gravità eccezionale. È vero, la PAS non esiste, su questo non ci sono dubbi, o meno, non è stata ancora codificata dalla medicina psichiatrica mondiale, ma questo non significa che il problema della contesa dei figli non sia un problema di rilevanza sociale gravissimo. Non c'è la PAS, non ci sono quei tipi di comportamenti, quei tipi di reazioni, ma non si può negare che un figlio che perde il contatto con uno dei due genitori sia un figlio deprivato della metà della propria storia di vita e genetica. E quindi il dramma c'è, la sofferenza c'è, la tragedia c'è e quindi non giochiamo sulla questione che la PAS non esiste. Ovviamente a parte l'affidamento condiviso c'è l'alternativa dell'affidamento esclusivo o super esclusivo e in questo caso quando il giudice emette un provvedimento di questo tipo vuol dire che c'è stato un grande disimpegno dell'altro genitore, quello che appunto non ha potuto avere l'affidamento condiviso, violenze, disimpegni di carattere economico, affettivo, assenze. Ci sono anche genitori che purtroppo a un certo momento si defilano, spariscono dalla scena e in questo caso il giudice non può fare altrimenti. Ma si può arrivare addirittura a toccare la responsabilità genitoriale, voi sapete che prima c'era la patria potestà, poi la potestà parentale, poi finalmente con la legge 219 si parla di responsabilità genitoriale. Ebbene ci sono provvedimenti che possono limitare e quindi sospendere la responsabilità genitoriale o addirittura possono prevedere la decadenza della responsabilità genitoriale. Si tratta comunque di provvedimenti gravi che di fatto cancellano un genitore, ma sono sempre evocabili quando vengono meno le condizioni che li hanno determinati. Quello che voglio dire e lo dico non con termini giudici perché le mie rubriche sono rubriche soprattutto dirette a tutti, rivolti a tutti, attenzione a giocare con i figli. Un conto è separarsi e un conto giocare con i sentimenti dei vostri ragazzi. Sappiate che i ragazzi contesi, i ragazzi che sono stati al centro di questi conflitti molte volte subiscono conseguenze sul piano scolastico, sul piano relazionale con gli altri, possono diventare anche più violenti. Io penso che la psicologia da questo punto di vista abbia fatto degli studi piuttosto approfonditi, ma soprattutto è un fatto antisociale, per cui finalmente abbiamo una legge, ma una legge ancora monca perché è una legge ancora non del tutto compresa, non del tutto capita. Vi voglio dire l'ultima cosa, all'estero l'affidamento condiviso è un valore riconosciuto da padri e madri. Nel nostro Paese dobbiamo fare ancora molta strada perché questa legge non deve cambiare soltanto gli aspetti giuridico-giudiziari al dito di famiglia, deve cambiare la testa degli italiani, la testa dei genitori. Vedete che essere buoni genitori è soprattutto la capacità di esaltare l'altro genitore, anche quando è successo qualcosa di doloroso nella vita coniugale o familiare. Non facciamo passare i figli come delle armi da usare contro l'altro genitore o contro la famiglia dell'altro genitore. Non sopporto per esempio anche il fatto, e poi ne parlavamo in rubrica a parte, che molti nonni siano in qualche modo cancellati dalla vita dei nipoti per ripicca o per vendetta. Tutto questo deve finire.